Dieci anni dalla fondazione ed una festa solo rinviata. L'associazione sportiva Nicola Di Leo Trani traccia un bilancio post-emergenza Covid-19 con uno sguardo all'immediato futuro per la ripresa delle attività lì dove erano state interrotte. C'era ammarico per non aver potuto festeggiare un traguardo importante dieci anni di attività a sostegno dei giovani talenti del territorio. Una festa che avrebbe portato a Trani ospiti importanti vista l'affiliazione all'Associazione Italiana Calciatori. La nostra associazione ha compiuto dieci anni di attività. Avremmo dovuto festeggiare con Simone Perrotta, presidente del dipartimento junior dell'AIC di cui questa società è affiliata. Nel periodo di buio le nostre attività, o meglio quelle dei nostri tecnici, sono andate avanti perché comunque si è potuto fare i corsi di formazione da remoto comunque con il dipartimento junior si è potuto programmare delle attività seppur teoriche ma comunque sono state per noi di aiuto e di miglioramento per quella che è la nostra organizzazione e metodologia di allenamento. Alcune attività di base sono già ripartite ma il vero obiettivo per la ripresa è il mese di settembre quando la stagione 2020-21 prenderà ufficialmente il via con tutte le categorie di ragazzi in campo. La Nicola Di Leo si augura che questo grave periodo vissuto in Italia sia definitivamente superato per la salute dei suoi piccoli iscritti e soprattutto per il futuro di tutte quelle associazioni, Nicola Di Leo in primis, che hanno bisogno di vivere giornalmente i campi di gioco. Sicuramente come questi dieci anni ci hanno contraddistinto, quindi secondo la nostra strada, partecipando a tutte quelle attività che sono rimaste bloccate in questo periodo, quindi viaggi, tornei e comunque l'attività settimanale e mensile che questa associazione propone con tecnici qualificati, laureati in scienze motorie e qualificati UEFA-B. Speriamo a settembre di ripartire con tutte le categorie. Vero è che c'è una difficoltà di fondo, ovvero il fatto che comunque Trani non ha un campo comunale per il divertimento dei nostri ragazzi, quindi stiamo comunque cercando di combattere questa difficoltà. Sicuramente come in tutti questi anni cercheremo e troveremo il modo per essere completi in tutte le categorie. Speriamo comunque a settembre di essere più carichi di prima e di rivedere, di riabbracciare tutti i bambini che finora non abbiamo ancora potuto rivedere e riabbracciare.